Paolo, 1-1 con la Ternana, 2 punti persi o 1 guadagnato? Penso 2 punti persi come si era messa la partita, abbiamo cominciato bene, siamo andati in vantaggio, abbiamo subito 2-3 occasioni per raddoppiare, quando purtroppo non concretizzi poi ci sono episodi che possono fare la differenza come è successo con il rigore. A tuo avviso ci sono stati degli episodi che hanno condizionato in qualche modo la partita? Sì, però penso che abbiamo dimostrato di essere più forti, potevamo vincerla in altri modi, loro credo che oltre quello hanno fatto un tiro al secondo tempo con Falletti e basta, noi invece abbiamo battuto numerosi calci d'angolo, li abbiamo aggrediti, abbiamo reagito subito dopo il gol, abbiamo fatto una reazione veramente per poter vincere, è andata male. Insomma, l'importante è che andiamo avanti a fare risultati positivi. Secondo te cosa è mancato oggi al Frosinone? È mancato raddoppiare e basta, un po' di lucidità forse negli ultimi metri, però insomma credo che la squadra abbia fatto anche oggi la sua partita. Ti aspettavi un avversario così ostico oggi? Sì, ma lo sappiamo, Ternana viene da un risultato positivo in casa con Lentè la settimana scorsa ed è una squadra con delle qualità importanti, soprattutto davanti. Hanno fatto una buona partita, però credo che alla fine ai punti avremmo meritato qualcosa in più noi. Quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno, diciamo così, è un nono risultato utile consecutivo e secondo te il Frosinone ha trovato la quadratura del cerchio? Beh, insomma, nuovi risultati utili sono una bella cosa, soprattutto arrivati dopo un periodo negativo, quindi la reazione della squadra si è vista, siamo un gruppo unito, compatto e chiunque gioca ha il suo contributo. La prossima gara ci vede davanti per lo Spezia, reduce da un pari nel derby Ligure, cosa ti aspetti nella gara di sabato prossimo? No, Spezia è una delle squadre candidate a salire di categoria, una signora squadra, ha fatto molto bene gli ultimi anni, è un campo ostico, lo conosco bene, è un pubblico importante che dà una mano alla squadra, quindi non sarà facile ma noi andremo a fare la nostra partita come sempre.